Ciao a tutti, mi chiamo Serena e sono una delle socie di Ruffless e Blackwave, l'unica femmina. Cos'è Ruffless e in cosa si differisce da Blackwave? Ah no, molto più figo! Ruffless nasce legato al mondo del surf, inteso come surf trip, i viaggi, esperienze, e quindi diciamo una vera un po' romantica se la vogliamo vedere in questo senso. Vai Davide, presentati! Ciao a tutti, sono Davide Onorato e assieme a Stefano, socio fondatore di Blackwave, surf school, e non bevo da dieci minuti. Non so se che devo dire! Cosa è diventato oggi Blackwave dopo questi più di dieci anni di attività? Allora, è diventata una scuola surf ben strutturata, con un sacco anche di attività outdoor, quindi non solo scuola surf, ma anche esperienze legate al sup, al kayak, grazie soprattutto all'area in cui viviamo, quell'area marina e protetta di Portofino, bellissima, e quindi oltre al surf viviamo a 360 gradi le attività e lo sport in zona, insomma, a casa nostra. Beh, ci siamo incontrati sicuramente sull'Academy, che è il nostro programma dedicato ai giovanissimi, dagli 8 anni fino ai 18-20. La parte scuola, diciamo formativa, veniva da Blackwave, ma la parte poi di organizzare l'esperienza all'estero è più... ...legata, diciamo, di più al mondo roofless, e quindi diciamo che è una combo eccezionale. E questa parte di viaggio perché è importante per i ragazzi dell'Academy? È importante perché attraverso il viaggio sperimentano nuove realtà, hanno modo di... sono proprio settimane di crescita personale, hanno modo di relazionarsi con ambienti totalmente nuovi e ogni volta che tornano da un viaggio sono arricchiti personalmente. Vieni, vieni, è tutto tuo. A Bogliasco, dove prima... cioè è sempre uguale, però mentre prima si era abituati ad arrivare a vedere roofless, adesso c'è Blackwave, il brand che gestisce più le esperienze. E quindi avete spugnato il ferro di Bogliasco? Ce l'abbiamo fatta. Già mai! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo messo una bandierina. Ma ci credo veramente.